ecco per prima cosa la pesata peso 300 grammi di acqua e la metto leggermente a riscaldare ma deve essere un calore sui 30 gradi non di più quindi pochi minuti poi peso la farina con un licimento possibilmente che abbia che sia abbastanza rotondo per la macchina proprio la mattanera e peso la farina non trovo come al solito farina focaccia zero trovo la farina qui là ah mamma mia ecco allora metto come avevo detto facciamone da 250 grammi di farina integrale anche se un po' di più non fa niente di importante che il totale faccio 500 qui spegniamo possiamo spegnere ho messo la doppio zero ma insomma ecco 500 poi metto una bozzina di quelli di tomate come dicevamo prima ecco 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 un pochino esissimo ecco l'acqua controlliamo la temperatura diciamo è un poità tanto la farina è fredda quindi va bene così dobbiamo mettere 10 grammi di sale 10 grammi di sale un po' difficile la pesata vediamo un attimo nell'acqua sette, otto, dieci a posto 10 grammi dare una gelatina che ci sciolga intanto dobbiamo mettere il forno statico non ventilato a circa 30 gradi così per mantenere, per fare il lievito questo va bene adesso aggiungo io lo faccio una piccolissima quantità d'olio un cucchiaio massimo ecco, ma neanche un cucchiaino e poi un po' di zucchero pochissimo zucchero proprio neanche così ecco ecco macchinetta per l'impasto che acquista mettere la spina il sale rimettiamo il sale rimettiamo dal posto non c'entra niente ecco fatto questa è pronta mettiamola in modo alla minima velocità mettiamola in modo mettiamola in modo mettiamola in modo mettiamo l'acqua in modo in modo in modo che si 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 Vissi, 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 vissi. Grazie a tutti. 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 un cannavaccio qualunque e lo mettiamo nel forno statico. Ecco, facciamo così. E poi lo mettiamo nel forno, che non deve avere ventilazione. La temperatura è rimasta un po' fredda, ma la aumentò più un po' perché è un po' fredda. Ah, dovevamo vedere la temperatura della pasta, sì, infatti, che è importante. Vado a prendere la mia macchina. Ecco, 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 sono... però va bene, allora li mettiamo dentro questo, ecco qua, li mettiamo dentro qua a posto, poi proseguiamo